Ciao, sono Grizia, una delle collaboratrici di Fattoria Cerreto. Siamo situati nella regione verde d'Italia, l'Abruzzo, in provincia di Teramo a Mociano Sant'Angelo, a pochi chilometri dal mare e a pochi chilometri dal Gran Sasso. Il nostro albergo a tre stelle, sorto negli anni 80 e ristrutturato negli anni 2000, dispone di 100 posti letto situati in 6 case coloniche nel raggio di pochi metri attorno al complesso centrale, dove si trovano il ricevimento, il bar, 4 sale e ristorante, una via veranda dove è possibile mangiare all'aperto, la discoteca e le sale meeting. Vista l'ampia scelta di servizi, come il maneggio, la piscina all'aperto, parco giochi per bambini, mini basket, campo da bocce, l'ido convenzionato a Giulianova, è il luogo ideale dove trascorrere ogni periodo dell'anno. È possibile inoltre fare escursioni e raggiungere città d'arte, come Offida, Castelli, Campli, il Santuario San Gabriele e la Fortezza di Civitella del Tronto. Per quanto riguarda la cucina, offriamo piatti tradizionali che rispecchiano il territorio e la stagionalità, oltre la pizza cotta con forno a legna e impasto a lunga lievitazione, con farine ricercate. Vi aspettiamo per trascorrere una vacanza che vi lascerà il segno. Potete consultare le nostre promozioni al sito web www.hotelcerreto.it, i nostri canali social e ci potete contattare telefonicamente allo 085 806 14 06 oppure 333 12 59 457. Grazie.